Il derby Palermo-Trapani Il derby Palermo-Trapani Ovviamente è molto più sentito rispetto a quello del Trapani Però sarà tosta anche questa partita Io suppongo che qualitativamente e tecnicamente sia un po' inferiore Poi un po' per la provincia, poi un po' per la storia del calcio Nulla contro il Trapani Che sono simpatie, bellissima provincia e più che vuoi Però la nostra storia è sempre con il Catania Abbiamo sempre quel bellissimo antagonismo Che ci spassa lì l'adrenalina, ci eccita, ecco tutto Quest'anno può essere sempre una situazione particolare Anche perché tra la Serie C il Palermo è retrocesso Per cui gli animi saranno sempre caldi E ci sarà sempre lo stesso agonismo Anche come se fosse Palermo-Catania Non sono gli stessi stimoli In Palermo-Catania È tutta un'altra storia Avete visto cosa ci hanno fatto Quando abbiamo scienziato la cassa di morte Non è la stessa cosa